Rosse cerca anche di dialogare con i compagni, un motto che non l'avevo mai visto così. Imenet dentro per Giaccherini, attenzione una gran palla a Giaccherini, la palla sul palo e poi alto, incredibile, incredibile errore di Giaccherini, abbiamo rischiato tantissimo, la palla in profondità, attenzione ancora il legge, ovviamente è visto a tutti quello che è successo, l'errore incredibile. La palla in profondità, si ritrova davanti la palla e la svirgola completamente, siamo stati graziati ragazzi, siamo stati graziati e adesso allora ulteriormente dobbiamo andare a cercare il raddoppio, forse c'è il contatto.